Buche, cantieri e impalcature, trenodi da gestire in vista delle festività natalizie che entreranno nel vivo la prossima settimana. La corsa al regalo dell'ultimo momento porterà in strada decine di migliaia di auto. Le strade però ancora risentono dei danni provocati dall'ondata di maltempo nelle ultime settimane e molte voraggini restano un grosso problema per il traffico. Per ora manca un piano viario che questo particolare periodo dell'anno impone. Da Viettania a Corsa Italia, da Via Sebastiano Catania a Circonvalazione, da Piazza Borsellina a Via Messina, bisogna fare i conti con quelli che sono i percorsi interni ed esterni dello shopping natalizio. E se piove la situazione non fa che peggiorare. Normalmente, proprio in questi periodi, prima di Natale, diciamo dall'8 dicembre fino al 24, sono viabilità molto appesantite dall'afflusso di persone che cercano anche per, in qualsiasi modo un po' occupano, il centro cittadino. Il minimo utilizzo delle auto private, quindi cercare di utilizzare il più possibile mezzi, mezzi pubblici. Ci sarà uno sforzo dell'amministrazione e probabilmente anche della metropolitana per cercare di, devo dire che è poco utilizzata, però cercare di utilizzarla nel periodo dell'atelizio, perché ovviamente il grosso problema sarà la sosta. Capito la parte spetta ai cantieri, sono decine disseminati in tutta la città. Trasformazioni in opere che non saranno immediate per Catania, ma che ci saranno. L'obiettivo comunque è quello di non farsi trovare impreparati. E allora via libera alla mobilità alternativa. Sappiamo tutti benissimo però che Catania ha questa risorsa. Vicoli e viuzze che, saputi imboccare, ti portano comunque nei luoghi in cui tu desideri molto agevolmente. Ecco, aggiunta l'ora che l'amministrazione comunale faccia un'app dove segni dei percorsi alternativi, ma non percorsi alternativi studiati sulla carta, ma bensì praticati dai tecnici e dai funzionari competenti che se vogliono io posso anche accompagnarli.